Ciao ragazzi, Giorossi! Allora cominciamo oggi con una serie di micro video, mini video, insomma chiamateli come volete, per far pratica con gli intervalli. Ecco ricordatevi che se studiate teoria, armonia, tutte quelle materie lì, gli intervalli sono proprio la base, cioè non avete quelli lì nelle orecchie, non date da nessuna parte. Quindi dai cominciamo oggi con la differenza tra seconde maggiori e minori e cominciamo con una bella carrellata di seconde minori. E adesso una bella carrellata di seconde maggiori. Ecco, ora dovrete riconoscere la differenza. tra seconde maggiori e minori. Facciamo questo breve test, naturalmente l'esercizio è un po' occultato, dopo vi do la soluzione. Via! Allora, ecco, è andata. Soluzione, eccola qua. Bene! Oggi abbiamo visto la differenza tra seconde maggiori e seconde maggiori e seconde maggiori. e seconde minori e nel prossimo episodio ci sarà la differenza tra terze maggiori e terze minori. Ecco, vi ricordo che sulla mia pagina Patreon potete trovare moltissimo materiale sulla teoria musicale e l'armonia. Visitina, dovreste trovare qualcosa che vi interessa. Buon, per oggi è tutto. Ciao! Ci vediamo al prossimo episodio! Ciao! 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 Ciao!